Villa Salus, salute e benessere per tutti. Ci avviciniamo alla primavera, un periodo particolare anche per il corpo umano. Io penso che insieme alla tecnica per migliorare l'aspetto estetico bisogna sicuramente partire sempre dalle stagioni. Ogni stagione ha la sua necessità. In primavera noi ricominciamo a prendere l'attività sportiva, quindi ci muoviamo, ci accorgiamo di avere anche qualche chilo preso e accumulato nei mesi invernali, quindi dobbiamo cominciare a vedere globalmente la pelle dal viso al corpo, alle gambe e tutto. Certo, ancora oggi l'aspetto predominante è quello delle donne che fanno ancora il 70% delle nostre pazienti, dei nostri utenti. Perché? Perché le donne ci tengono di più, gli piace mantenersi in forma. E' anche vero che l'uomo invecchia diventa interessante, la donna che invecchia diventa vecchia. Allora, da questa strana consapevolezza di questa realtà ci porta sicuramente ad avere le donne come primi clienti del nostro centro, della nostra Villa Salus, proprio dedicato alla dermatologia, alla pelle e al corpo. Che cosa bisogna fare? Bisogna fare un controllo, bisogna vedere come sta invecchiando il nostro viso, le rughe, le macchie cutanee. Sicuramente bisogna controllare anche a livello della consistenza stessa, della tonicità del nostro corpo, perché anche non è solo la ruga che invecchia, ma anche il decadimento delle palpebre, il decadimento delle zone, delle guance, del viso, del seno e dell'interno coscia, interno braccia, ci dà, ahimè, una, diciamo, immagine della nostra età. Noi bisogna ingannare lo scorrere del tempo, bisogna fare in modo che il nostro aspetto risulti sempre tonico, giovane e il più possibile in forma. Sempre, dico io, compatibilmente anche con un'attività cerebrale intelligente, vivace ed efficace, altrimenti siamo belli fuori, ma dentro siamo un po' tutti andando verso l'invecchiamento e quello difficilmente si può curare ben in fondo. Ce lo insegnano tutte le malattie, dal decadimento cerebrale fino all'Alzheimer. Quindi, almeno, quello che possiamo fare noi dermatologi esternamente è quello di mantenere, dalla primavera, ci cominciamo a scoprire, dobbiamo essere in forma. Naturalmente, per quanto riguarda anche quelli che possono essere gli interventi, parliamo sempre di interventi sempre meno invasivi e questo è importante. Un altro aspetto che comunque mi piace sottolineare anche di Villa Salus, che è anche un'attenzione particolare anche nella creazione di alcuni prodotti legati alla cosmesi, che anche questo è un altro aspetto importante. Io volevo ricordare anche un suo intervento in una precedente intervista in cui parlava del fatto che quando si, comunque, si anche, si utilizza un nuovo prodotto, anche quello di testarlo, anche con una piccola, mettendolo leggermente sulla mano, proprio per evitare fastidi successivi. Ma sicuramente quello che lei dice è giustissimo, in quanto sicuramente basta aprire i giornali o ascoltare un attimo la televisione, perché ci sono tantissimi prodotti per prevenire l'invecchiamento, tanti prodotti per idratare, antirughe, antimacchia. L'importante è che ognuno di noi ha un fototipo diverso, occhi chiari, occhi scuri, capelli rossi, capelli biondi, quindi non si può pensare che una crema è adatta a tutti. Bisogna essere sempre attenti e valutare che l'applicazione di una crema messa sul viso, sulle palpebre in particolar modo, con effetto rassodante e antirughe, sia al massimo tollerabile. Quindi sia le aziende che uno utilizza devono essere aziende serie, conosciute e non consigliate con un campioncino dal primo farmacista, dal primo profumiere che ci propone un discorso di questo tipo, magari anche con nomi altisonanti. Essere sicuri che le persone chiare, con tendenza a qualche allergia, ai poli, nelle polveri, agli antibiotici, possono avere delle reazioni crociate, possono avere anche effetti che si sommano tra di loro, quindi utilizzare sempre nella bellezza e nella cura del corpo creme particolarmente testate, inizialmente piccole zone, per poi essere applicate a un po' tutto. Ma questo rientra anche nella conoscenza dermatologica della pelle, nello studio delle immunoglobuline E, per vedere se uno è un soggetto atopico, delicato, con occhi chiari, che quindi richiede da parte nostra una particolare attenzione e una salvaguardia di quelli che possono essere anche gli effetti collaterali. Naturalmente, sappiamo qui, naturalmente siamo sempre all'avanguardia dal punto di vista dei macchinari. Vuole un pochino citare quelle che sono, insomma, in qualche modo anche le nuove frontiere per quanto riguarda la dermatologia? Allora, con tutta onestà, in questi ultimi dieci anni si sta spostando l'attenzione un po' meno chirurgia estetica e un pochino più trattamenti estetici con i filler, con la tossina botulinica, con le varie vitamine combinate, con effetti rassodanti, eccetera, con delle idrosiapatite di calcio. Sono delle sostanze, oggi giorno abbiamo tantissimi materiali che ci permettono di rimodellare il viso, le mani, il corpo, in maniera tale da essere meno invasivi, meno anestesie generali, meno infiltrazioni pericolose e naturalmente tutto questo è ormai appurato, che sono passati decine di anni che utilizziamo dei farmaci e delle sostanze che naturalmente hanno il vantaggio di migliorare l'estetica della persona, ma nello stesso tempo hanno la capacità anche di ringiovanire la pelle attraverso un meccanismo proprio di rigenerazione, dico io, nelle cicatrici dell'acne, nelle cicatrici post incidenti stradali, insieme alla combinazione tra vitamine, acido ialuronico e tecniche laser, come i laser frazionati e la luce pulsata, abbiamo un corollario di presidi medici e tecnologici e chirurgici che però ci mantengono trattamenti che si possono fare in degli ospita, il paziente arriva la mattina, fa il suo trattamento, se ne torna a casa, si trucca sopra se è una donna, quindi anche come camuflage si riesce tranquillamente ad avere un aspetto piacevole per poter tornare al lavoro e poter fare una vita normale senza doversi allontanare dall'ambiente e dal familiare di lavoro o dai rapporti sociali per settimane con punti lividi e altre cose. La nuova medicina estetica sta rubando un po' di spazio alla chirurgia estetica e noi come dermatologi ne siamo felici perché meno siamo invasivi e meno rischi corriamo, anche pazienti non si corre il rischio di farli tutti uguali, con lo stesso labbra, lo stesso viso, lo stesso zigomo, perché allora bisogna mantenere una fisiologia e bisogna mantenere sicuramente un aspetto estetico più naturale, rigiovanitosi, ma più naturale possibile. Per chiudere questa prima parte, la domanda, sempre più persone comunque hanno problemi di irritazione cutanee, quali i suoi consigli e la sua valutazione? Un aspetto poi interessante è anche il fatto del rapporto con il verde, perché poi adesso ci arriviamo alle belle stagioni, il curare il proprio giardino e anche in questo caso so che a volte ci sono certi tipi di problematiche. Ha toccato un argomento delicatissimo perché la primavera è la stagione, a mio avviso, più bella, in cui c'è proprio una rigenerazione del corpo e dello spirito, però è anche vero che vedere tutti questi alberi quest'anno fioriti e naturalmente è una esplosione di pollini che vengono distribuiti nell'aria. Ne sanno qualcosa? Chi soffre di riniti allergiche, chi soffre di starnuti, chi soffre di pruriti stagionali legati alle parietarie, al cipresso, all'olivo e queste cose vanno a infisciare dei disturbi sulla pelle e peggiorano anche l'utilizzo di qualche crema che a contatto con i pollini può anche risultare allergizzante. Invece sono solo i pollini che hanno sensibilizzato la pelle del viso e del corpo e che quindi bisogna utilizzare antistaminici, creme adatte, creme idratanti e soprattutto in quei bambini o in quei adolescenti o in quelle persone che hanno notoriamente una sensibilità verso i pollini cercare già di non aspettare l'esplosione proprio delle allergie ma attraverso degli antistaminici cominciare già senza aspettare l'inizio diciamo del calendario primaverile ma già cominciare piano piano a utilizzare bassi dosaggi di antistaminici detergere bene il viso con saponi delicati o syndet che ti possono eliminare quel pulviscolo, quelli pollini che rimangono direttamente sulla pelle e ci danno sensibilizzazione. Stiamo entrando in primavera naturalmente bisogna avere un'attenzione particolare anche per il proprio corpo. Assolutamente, soprattutto se pensiamo che la pelle è in assoluto il nostro organo più esteso e quindi è l'organo più grande che abbiamo perciò se mettiamo l'attenzione su altre parti del corpo a maggior ragione dobbiamo metterla sulla pelle. Dobbiamo sempre ricordare che il controllo dei nei, l'epiluminescenza e la cosiddetta mappa dei nei è bene farla a cute non abbronzata quindi andiamo incontro a quelli che sono gli ultimi mesi utili prima dell'estate per poter controllare lo stato della propria pelle ma non sono solo i nei ad essere importanti nell'acute ci sono tantissimi altri tumori della pelle che si chiamano non melanoma skin cancer cioè tutti quei tumori che appunto appartengono a categorie diverse dal melanoma che non sono solo più frequenti nella pelle fotoesposta ma che per questo motivo devono essere controllati appunto prima dell'estate e prima di andare al mare. È importante in questo periodo per tutte quelle persone che sono sottoposte poi anche a frequenti scottature, a orticare solari e a problemi appunto legati al sole fare una prevenzione anche a volte con integratori per bocca e con tutte quelle sostanze che possono preparare la pelle all'esposizione solare e quindi utilizzare un po' questo mese come una sorta di inizio di terapia inizio di prevenzione in previsione dell'estate e di quelle che poi saranno le esposizioni al mare e non. Naturalmente ormai si parla anche di una medicina olistica che comprende un pochino tutto naturalmente è importante l'aspetto medico ma è anche importante l'aspetto legato al cibo l'attività fisica e poi ecco vogliamo anche ricordare il fatto che ormai questi test e questi esami non sono assolutamente invasivi è possibile farli insomma possiamo dire con un tempo abbastanza limitato ed oggi la tecnica ci aiuta anche a avere almeno un diagnosi alquanto precisa. Assolutamente fare una accurata visita dermatologica richiede non più di mezz'ora e questo è un tempo che ci possiamo concedere ce ne concediamo noi donne molto di più per andare dal parrucchiere e se è vero che ci sono i medici internisti è vero che il dermatologo è un po' un medico esternista cioè è un medico che ha sott'occhio tutto quello che è al di fuori quindi pelle, quindi capelli, unghie, annessi cutane e molto spesso la parte esterna del nostro corpo può essere un campanello d'allarme per problematiche che sono non sempre esclusivamente dermatologiche per cui può valere la pena fare un controllo in generale nel momento in cui vediamo che da un punto di vista cutaneo c'è qualcosa che non va perché non è detto che sia sempre solo un qualcosa di riferibile appunto alla dermatologia. Naturalmente ci avviciniamo anche all'estate, un altro dei temi caldi è sempre il sole sì se noi pensiamo alla vitamina D eccetera e il sole no in quanto effettivamente può portare a delle scottature e poi mi ricordo un intervento particolare che anche una scottatura giovanile può causare dei danni in età invece più avanzata. Sole sempre, assolutamente sì, il sole ci serve è un qualcosa di cui non possiamo ne dobbiamo fare a meno. Va preso con coscienza e con attenzione soprattutto in una fascia di età che va dagli 0 ai 25 anni perché quelle sono le scottature più pericolose e quindi ha più senso proteggersi da giovani che non dopo l'età adulta perché le scottature giovanili basta una sola scottatura per aumentare il rischio di melanoma di almeno il 25% quindi è importante porre l'attenzione fin nella più teneretà al controllo del sole all'evitare appunto scottature e al prendere il sole con coscienza. Non bisogna evitare il sole proprio perché appunto è un qualcosa che ci serve però bisogna seguire quelle che sono le regole che poi ormai sappiamo tutti quanti evitare le ore più calde e esporsi sempre con una protezione solare che vuol dire una protezione sopra il 30 SPF e quindi comunque sia essere il più coscienti possibile. Ognuno di noi poi sa bene come gestirsi perché ormai viviamo nella nostra pelle da un po' perciò è possibile che ci sono persone per le quali sono necessarie protezioni altissime solo nei primi giorni e che poi si possono permettere magari di abbassare un po' il fattore di protezione e altri invece che devono tenere l'allerta massima durante tutta l'esposizione solare per tutta l'estate però questo è un qualcosa che appunto ciascuno si deve gestire. Il dermatologo non dirà mai di non andare al sole però non dirà mai nemmeno di andarci senza protezione in maniera appunto incosciente. Ci troviamo di fronte a un macchinario, ecco se ce lo vuole in qualche modo illustrare. Allora questo è solamente un dermoscopio più evoluto che in realtà dà la possibilità di vedere i nei come altri dermoscopi manuali come se non ci fosse lo strato superficiale della pelle quindi in un modo che ci permette di vedere all'interno da che cosa è composto questo neo quali sono le strutture che ne caratterizzano la forma, il colore, le dimensioni. In base al diverso tipo di struttura dermoscopica che noi riusciamo a vedere è possibile distinguere da tipi di nei diversi abbiamo nei congeniti, abbiamo nei atipici, abbiamo nei displastici e quindi la dermoscopia ci permette di visualizzare tutte quelle che sono le lesioni dell'acute in una maniera molto più dettagliata. In questo modo riusciamo anche sia a tenere sotto controllo la possibile evoluzione dei nei perciò ha senso prendere un'immagine nel momento in cui quel neo ha delle caratteristiche che dovrebbero essere monitorate del tempo perché può avere dei segni appunto di cambiamento o di atipia. In generale però anche se non tutti i nei vengono fotografati quindi anche se non per tutti i nei viene presa poi un'immagine che viene tenuta in memoria ogni neo e ogni lesione colorata quindi pigmentata eccetera va sempre guardato in dermoscopia perché non esiste una visita dermatologica che non contenga all'interno il momento della dermoscopia grazie al quale abbiamo delle informazioni molto più utili e molto più dettagliate. Giulio Franceschini è anche promotore di un'importante iniziativa Neomicomio che vede anche come partner prestigiosi ci ricordiamo l'associazione Un bel conto il cancro Rotary Assisi, Avis, Cezvol, associazioni e medici in rete per portare avanti un percorso di prevenzione con Neomicomio. Io sono felice di aver partecipato e ideato insieme a voi questo progetto perché i tubori della pelle è una realtà alla quale non possiamo nasconderci è in aumento i melanomi e i carcinomi cutanei sono sempre più presenti nella realtà italiana e nel mondo quindi fare una campagna che ci permetta di avere sicuramente una visione città per città non un evento un giorno una tanto ma noi abbiamo diviso la nostra regione nei 14 club dei Rotary da Orvieto a Spoleto da Perugia a Todi e quindi ci permetti di andare nelle città a fare una giornata di prevenzione gratuita per tutti quelli che hanno delle macchie sospette da controllare o ricontrollare. Questa è una bella iniziativa e una volta tanto anche i medici si mettono al servizio della popolazione in maniera gratuita proprio perché prima troviamo queste lesioni pericolose e a volte mortali della pelle e prima il successo della prevenzione è concretamente applicato alla vita. Possiamo dire che poi da queste anche centinaia di test e di incontri di queste persone la particolarità è che già sono usciti fuori dei casi sospetti ecco perché è importante poi parliamo comunque di persone anche in età molto matura perché ancora la cultura della prevenzione del melanoma ancora non è così radicata pochi fanno la mappatura dei nei e invece da questa diciamo promozione dell'iniziativa Neomicomio si crea da un lato attualmente la sensibilizzazione della cittadinanza che va da Gualdo a Terni, da Perugia a Sisi e lo si fa anche perché poi abbiamo avuto dei casi sia per quanto riguarda in occasione dei vostri incontri nelle scuole bambini ma anche di persone invece in età più mature. Sicuramente la prima cosa è che noi dobbiamo creare una mentalità se noi siamo stati bravi a far capire alla gente che devono spogliarsi e controllare le proprie macchie attraverso un autoesame, farlo vedere al medico di famiglia come primo step e poi farlo vedere a un dermatologo già noi abbiamo cominciato a prendere una fascia di popolazione che è ancora troppo bassa perché la mentalità per i tumori al seno c'è e è stata fatta le analisi del sangue le fanno tutte ma la mentalità della dermoscopia, dell'esame dei nei ancora o almeno delle lesioni sospette della pelle ancora ha una popolazione non molto numerosa. Noi creata la mentalità ci mettiamo in prima linea noi andiamo a vedere perché prima si scoprono nelle fasi iniziali di un neo displastico o un neo che ha caratteristiche irregolari e prima interveriamo. Ancora il melanoma in situ, cioè il melanoma al primo livello ancora di piccolo spessore è curabilissimo non vorrei più vedere come mi è capitata anche la settimana scorsa di vedere un melanoma già con le metastasi limitrofe quindi anche se noi facciamo la sesta edizione di Neo Amico Mio è la dimostrazione che ancora la gente non ha capito bene questo nostro messaggio e arriva da noi troppo tardi. Infatti ricordiamo che il melanoma sfortunatamente è un tumore in aumento e anche un tumore che se trascurato può portare anche, non lo diciamo, per fare un terrorismo mediatico però forse non cerco questo tipo di sensibilità per capire anche i rischi di questa patologia. Uno pensa che una macchietta della pelle abbia meno pericolosità e meno impatto sulla salute di un cancro al colono, di un cancro allo stomaco o di un cancro al seno. è ugualmente metastatico, quindi bisogna prendere quando i nei si ha un sospetto meglio levarli, quando noi vediamo una lesione erosia che tende a sanguinare e che per più di un mese non migliora, non si asciuga potrebbe essere benissimo un carcinoma cutaneo in fase iniziale. Intervenire, fare un esame istologico e questa è la realtà.